Il decreto per Carigia approvato dal governo apre anche alla possibilità di una temporanea nazionalizzazione della Banca Ligure. Soddisfatta la maggioranza, ma le opposizioni accusano il governo di incoerenza. Pilar Ottotz. Per la Carigia non si esclude la nazionalizzazione e il caso sbarca Montecitorio. Il governo è pronto a fare tutto il necessario per tutelare i risparmiatori, dice il ministro Tria. Nel caso sia arrivata una nazionalizzazione, sarebbe comunque transitoria. La ricapitalizzazione precauzionale è una operazione temporanea. La partecipazione di controllo deve infatti essere dismessa al termine del periodo di ristrutturazione concesso. La cosiddetta nazionalizzazione sarebbe quindi a termine. Ma è la soluzione di mercato, quella preferibile, aggiunge il ministro, e la garanzia sulla liquidità serve ai commissari per cercare nuovi partner. Tria spiega che l'operazione ricalca il salvataggio di Monte dei Paschi del 2016. Le regole europee, dice, non sono cambiate e l'opposizione torna all'attacco parlando di incoerenza. TAP, ILVA, Trivelle, Terzo Valico, Brennero, adesso Carige, la lista delle incoerenze, per fortuna diciamo, ci va allungando. Di incoerenza parla anche Forza Italia e il PD insiste sul presunto conflitto di interessi del premier Conte. Ma la maggioranza difende il provvedimento e il vicepremier Di Maio propone una nuova commissione di inchiesta sulle banche e aggiunge, se metteremo soldi in Carige diventerà pubblica. E Salvini dice, se ci saranno utili ci guadagnerà lo Stato.